Beh ecco, di questo ne parliamo dopo. Ma vi rendete conto da quanti anni mi mandate i vostri piatti? Dunque, mettetevi comodi, vi racconto una storia. Era l'anno 2009, questo non vuol dire che siamo dei vecchietti, l'arrivo di Whatsapp sconvolse tutti perché finalmente potevamo mandarci non soltanto dei testi, ma anche proprio delle foto, delle immagini, le faccine. Dalla mi son detta quasi quasi perché non mandare la vetrina ai clienti che comodamente da casa potranno dare una sbincettina in vetrina e vedere quello che li aspetterà il giorno dopo al mercato. E così dal 2010, cioè vi rendete conto? Cioè è dal 2010 che lavoro sui broadcast? No, 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 tranquilli, tranquilli, lo faccio con piacere, ma non è finita qui perché poi nel 2011 ho iniziato a dirmi ma quasi quasi perché non farmi mandare i piatti dei clienti e quindi vi rendete conto? Siamo nel 2021, sono dieci anni che mi fate entrare virtualmente nelle vostre cucine. Insomma in questi anni ho pubblicato centinaia e centinaia di piatti con piacere, mi sono arrivate anche delle ricette innovative, strepitose, ma soprattutto mi sono arrivate le vostre ricette e infatti la mia ultima rubrica l'ho proprio voluta intitolare il migliore ingrediente della gente perché siete davvero tutti voi il migliore ingrediente, ma in questi anni vi ho coccolato con rubriche come dalla vetrina in cucina, l'angolo della pasta che è piaciuto molto e non è finita qua perché poi nel 2013 mi son detta quasi quasi perché non far dedicare ai clienti i loro piatti proprio come si dedicano le canzoni. Ho proposto questa mia simpatica rubrica anche agli autori di Tustiche Vales che ne sono davvero rimasti molto molto colpiti e ancora, eccolo qua, è nato il piatto dedica VIP. Vi spiego un'altra piccola storia. Nel 2000 circa avevo una ditta di grafiche di multimedialità con una mia collega, realizzammo questo bel sti di Roma interattivo per Fonopoli, il centro che Renato aveva voluto avviare per tutti i giovani talenti. Da lì Maria Pia Fiacchini, con la quale tuttora sono in contatto, mi ha detto Marinella la tua idea del piatto dedica è così semplice, bella, ma innovativa, non l'aveva mai fatto nessuno, che ecco qua, non so se potete vederlo, mi hanno dedicato proprio un bell'articolo su Fonopoli, eccolo lì, magari se lo giro così è meglio. E fa quindi è nato il piatto dedica VIP, i piatti delle star. Io qui avevo dedicato dei triangoli proprio per il connubio, il triangolo, il primo successo di Renato. Che dire, io sono esausta ma felicissima, sono praticamente 12 anni che lavoro per voi, lo faccio con piacere, quindi anche oggi, buona domenica, continuate a mandarmi i vostri piatti e mi raccomando domani la nuova puntata appunto del migliore ingrediente della gente e vi svelo anche una piccola novità. Ormai l'avete visto sui social, abbiamo iniziato a collaborare con la macelleria ICA, quindi domani nasce anche il primo inserto, dal primo al secondo. Non posso dirvi altro, non manquate, continuate a seguirci.